buonasera dalla stella azzurra diciassettesimo turno del campionato di serie a della lega calcio 8 seconda giornata di ritorno in campo roma calcio 8 gsa e zio mauro maccarrese nelle ultime tre giornate la roma calciotto ha ottenuto tre vittorie lo zio mauro maccarrese neanche una mauro maccarrese pallone per dell'anno che prova a mettere in movimento un compagno il tocco sotto e pallone che termina sul fondo vicino al vantaggio la squadra ospite spinto la conclusione di zorzi pallone in verticale ora per dell'anno che prova a girarsi libera il sinistro il pallone termina di poco fuori grande giocata da parte di matto dell'anno vicino al vantaggio del numero 14 ottaviani pallone alzato ora seferi combatte serve ancora cichella cichella pallone che tocca la parte bassa della traversa ed entra in rete e l'undicesimo gol in questo campionato di luca cichella ed è il vantaggio della roma calcio a 8 dopo 24 minuti del primo tempo certo delle condizioni di matteo dell'anno dall'altra parte del campo se in piedi per il numero 9 della zio mauro allora si può giocare cichella calcio col destro e trova un gol improvviso alla recupero del primo tempo il gol di ciccolini anche per lui è l'undicesimo gol in campionato e dunque sull'asse cichella ciccolini la roma avanti la roma calcio 8 in vantaggio per 2 a 0 alcia pallone respinto ma torna su di lui la sfera va in verticale per il numero 15 che si libera tocca pallone che rimane lì e poi entra in rete c'è il 3 a 0 della roma calcio 8 proprio all'inizio della ripresa è arrivato il 3 a 0 da parte del numero 15 in delicato e ora partita sempre più al sicuro per la squadra di casa con ciccolini che scambia con un compagno ancora ciccolini allarga sulla destra dove si fa vedere oliva oliva fa partire il destro e trova un grandissimo gol il grandissimo gol di oliva e il 4 a 0 della roma calcio a 8 da poi la l'allargo per oliva che allarga ancora a sua volta per ciccolini fa partire il raso terra verso il centro e il tocco di oliva non trova la porta vicino alla doppietta alessi oliva vicino al 5 a 0 la roma calcio 8 pallone sul secondo paolo caterini si è lunga sfera che rimane lì e c'è il colpo di testa che termina in rete ha segnato la zio mauro maccarrese ha accorciato le distanze il numero 7 bibi per il numero 1 della squadra ospite vadala parte proprio cicchiella il pallone a giro sfiora il gol luca cicchiella con questo con questo bel calcio di punizione combattere la perde però allora possibilità di contropiede per seferi che solo davanti a vadala il tocco di seferi che termina in rete c'è spazio anche per lui sul tabellino dei marcatori e il gol di claus seferi e il 5 a 1 per la roma calcio a 8 gsa e del gol recupera un altro pallone cicchiella avanza cicchiella c'è un compagno sulla destra lo serve ancora dietro per cicchiella che torna sul destro e calcia trovando il gol del 6 a 1 dilaga ora la roma calcio a 8 la doppietta personale per luca cicchiella che sale a 12 marcature in questo campionato sia mauro maccarrese quando siamo alle ultime battute di gara pallone sul secondo palo il colpo di testa di matteo dell'anno va vicino al gol il numero 9 dell'azione romaccarese possibilità ancora di contropiede per la roma calcio 8 va via bene seferi che calciano al sinistro prova a metterci le mani vada là ma il pallone termina comunque in rete trovato più e tank e seferi il 7 a 1 della roma calcio 8 che in questi ultimi minuti ha trovato ben tre gol il portiere arriva il triplice fischio finisce 7 a 1 per la roma calcio 8 che ottiene la quarta vittoria consecutiva fa un altro importante passo avanti in classifica brutta sconfitta invece per la zia mauro maccarrese